Ciao, ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, finale 19, tratto chiuso per lavori tra il VV1 variante Baccheraia e Pian del Voglio. Ci troviamo nella carreggiata in direzione nord. Per la mobilità, coda per traffico sempre in A1 verso sud tra VV1 variante e Badia, in carreggiata opposta tra Carenzano e VV1 variante. Più a sud, rallentamenti per traffico tra Firenze e Sud e in Cisareggello. In A1 riaperto il tratto compreso tra Lucca Ovest e Massarosa sulla dilamazione Lucca-Viareggio, precedentemente chiuso per incendio. Arriviamo in scipili rallentamenti per traffico verso Firenze, tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Per il traffico ferroviario, per un intervento dei vigili del fuoco tra Empoli e Firenze, la circolazione dei treni è sospesa sul tratto. I treni giornali potranno subire ritardi, modifiche o variazioni. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze. Per ora è tutto un buon viaggio.